Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, altro video dello sapevi che, numero 5 ma anche il più importante per me. Io sono Paola e in questo canale parliamo di risparmio, di uso e ciclo, tutto ciò che ci permetta di avere spesa scontata o gratis, e musica e anche cucina, perché questo è importantissimo, perché è ciò su cui si basa fondamentalmente il mio canale. Ma prima di iniziare, se ti fa piacere, commenta, condividi, iscriviti e metti tantissimi like. Perché è il più importante per me? Perché è quello che mi ha permesso in un periodo brutto della mia vita di andare avanti, cioè i coupon, buoni spesa, buoni sconto, promozioni, promoter e chi più ne metta. Non so se lo sapevi, ma pazzi per la spesa Italia si può fare, assolutamente sì. Non proprio come in America, in cui comunque il 90% dei coupon sono basati, o buoni sconto, chiamateli come volete all'italiana, sono su prodotti spazzatura, ma in Italia c'è una piccola sezione di buoni sconto che ci permettono di avere la spesa scontata. Oltre a questa piccola parte dei buoni sconto che ci permettono di avere la spesa scontata, ci sono anche le promozioni che ci permettono di o non pagare, o pagare una piccola parte di ciò che stiamo prendendo. Come? Attraverso promozioni del supermercato, che ci permettono di avere un rimborso parziale sul proprio portafoglio virtuale, cioè sulla nostra tessera, un esempio, I per la grande I, ogni settimana su determinati prodotti vi consente di avere un rimborso pari circa al 20% di quello che spendete su determinati prodotti, che cambiano di settimana in settimana. Questi soldi che vi vengono rimborsati vanno a finire su un portafoglio virtuale, che potete utilizzare questi soldi nel portafoglio come volete, anche dalla spesa successiva. E la trovo un'ottima cosa. Se noi siamo legati a un prodotto di marchio I per la grande I, ciò ci consente di poter abbassare il totale della spesa. Oppure, e se lunga con la sua fidelizzazione, ci consente di arrivare a un tot di punti che possiamo convertire in buono spesa. Oppure ci sono le sante promoter che, comprando determinati prodotti, ci danno la possibilità di averne altri in regalo. Io col tempo ho avuto in quello spazzetto lì per i nuovi iscritti benvenuti, vi farò vedere se avete piacere un giorno tutto ciò che ho avuto grazie a promoter, soprattutto della Molino Bianco. Ho zaini, bicchieri, tazze, addirittura un cucchiaino, ho veramente di tutto, runner, ho di tutto e di più. Veramente si può avere veramente tutto. E in più ci sono queste promozioni che noi comprano determinati prodotti, tipo adesso c'è quella della Palmolive che vi ho detto in un'altra promozione, ma poi volta per volta vi farò vedere tutte le promozioni migliori che si chiamano alcuni cashback. Quella della Palmolive vi consente di comprare due prodotti della linea Palmolive, di cui almeno un bagno schiuma e ci rimborsano fino al massimo di 5 euro, il che vuol dire che se noi spendiamo 4 euro ci rimborsano 4 euro, se spendiamo 7 euro ci rimborsano 5 euro. Sono tutte promozioni che ci consentono comunque di guadagnare o di avere prodotti gratis. Quindi, poi la cosa più importante che mi sto dimenticando prima di concludere, dove trovare buoni sconto? Buoni sconto li potete trovare sui siti attualmente della Galbani, della Valfrutta, della Bondwell e di Buon per Tutti. In più ci sono applicazioni tipo Wiscount in cui abbiamo ulteriormente, scusatemi sono raffreddata, dei rimborsi su quello che è la nostra spesa. Wiscount però il prodotto non deve essere promozionato sullo scontrino. Però ci ho già fatto delle recensioni, quindi andate a vedere le mie recensioni su tutti i vari prodotti e su come fare ad avere questi buoni sconto. Se vi fa piacere e volete degli approfondimenti, ne parliamo ancora in live. Quindi pazzi per la spesa in Italia? Più o meno si può fare. Io ci sono riuscita alcune volte, ho tratto delle grandissime soddisfazioni. In più, occhio sempre alla sezione, quella in cui avete praticamente dei prodotti superi, super scontati, super super scontati, che magari sono in fine serie, che nessuno vuole e riuscite lì anche a fare dei grandissimi affari. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questa mini pillola. Se volete in live, io sono presente più o meno un giorno sì e un giorno no, potete farmi tutte le domande che volete, sia qua che sia sul mio Instagram, Paolo AB1980. Se volete delle altre delucidazioni, scrivetemi dove volete o se no vi aspetto in live. Iscriviti, commenta, condividi, mettici tantissimi live. Ciao!